Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo al capitolo settimo e al versetto 14. Ci ricordiamo, ieri abbiamo letto tutte queste cose che fanno, scrivi i farisei, ecco, per autorità, ma insomma non secondo la parola di Dio. E allora, sentite, chiamata di nuovo la folla, diceva loro, ascoltatemi tutti e comprendete bene. Un'espressione molto precisa e unica che, se non ricordo male, è solo Marco ad usare. Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Cioè Gesù è lì che dice, oh, su sta cosa qua bisogna capirsi, eh, perché altrimenti non va bene, altrimenti continuiamo a vivere un'esperienza religiosa che è lontana da Dio. Cioè continuiamo a vivere, appunto, un'esperienza religiosa senza Dio e noi possiamo continuare a vivere un cristianesimo senza Cristo. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Non c'è nulla fuori dell'uomo. Non sono le cose, i cibi o qualsiasi cosa, no? Non sono le nostre mani impure, come diceva il Mangelo di ieri. Ma sono le cose dentro di noi che eventualmente possono renderci impuri. Quando entrò, scusate, in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono su questa parabola e disse loro, così neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro. È tutto un dono di Dio, è tutta creazione. Perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna, abbastanza chiaro, eh Gesù? Così rendeva puri tutti gli alimenti. Evviva! E diceva, ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male. Impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Cioè Gesù dice in modo molto chiaro, piantiamola lì, di preoccuparci delle cose che hanno a che fare appunto con l'esteriorità. Perché è dal di dentro di noi che possono venire fuori cose cattive. Cattive. Appunto l'invidia, la supervia, la maldicenza, i furti. E' dal di dentro di noi. E quindi preoccupiamoci del di dentro. Perché io posso anche lavarmi tutto il giorno, posso anche, dicevo ieri, non a voi ma alla messa feriale, io posso anche venire a messa tutti i giorni e fare tutte le devozioni possibili e immaginabili, ma se poi però, alla prima possibilità che ho, faccio del male contro qualcuno. Sono superbo nei confronti di qualcun altro. E se posso tirare a quella persona là con le mie parole, lo faccio appena posso. E' questo quello da cui dobbiamo guardarci. I nostri sentimenti interiori. Gesù guarda al cuore ed è per questo che lo uccideranno. Che non sopporteranno. E' questo che non sopporteranno gli uomini religiosi. Perché gli uomini religiosi molto facilmente risolgono le cose con, come dire, dando delle pratiche da rispettare. Fai questo, fai quest'altro, fai quest'altro. E beh, è facile. E no? Togli il male da dentro di te. Per questo io sono venuto, dice Gesù. Grande cose, cose belle della giornata di ieri. Ne cito solamente una, perché ho rifatto un incontro di catechismo con i bimbi della seconda elementare. E insomma, stare con i bimbi è sempre bello, perché fanno delle domande grandiosi. Grandiose. Abbiamo visto la chiamata dei discepoli. Abbiamo giocato a memory con i discepoli. Erano tutti entusiasti. E viva l'entusiasmo dei bambini. Mi piace da morire. Buona giornata.